Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Come vedete nella nuova grafica vi consigliamo di iscriversi al nostro canale YouTube ma anche di seguirci su Facebook e Instagram perché ogni giorno ci sono notizie e indiscrezioni sul Milan. Oliver Giroud resta la prima scelta del Milan nonostante il rinnovo unilaterale del Chelsea. Abbiamo già in qualche modo illustrato quale è stata la volontà del Chelsea quindi tutelare il proprio club in Premier League ma qualora ci fosse un'offerta proveniente da fuori dalla Premier League lascerà il giocatore a parametro zero lascerà la libertà del giocatore di accasarsi altrove. Però il Milan chiaramente sta valutando come abbiamo sempre detto un terzo profilo, una terza punta e sembrerebbe che stia uscendo il nome di Arkadiusz Milik. Un nome difficilissimo, un nome che abbiamo verificato, che piace ma che è davvero molto difficile da raggiungere. Perché questo? Perché è un giocatore che intanto ha un costo importante, ha un profilo già noto avendo militato nel Napoli alla Serie A, ha 27 anni, è un giocatore che ha fatto 13 partite da gennaio quando si è trasferito al Marsiglia e in 13 partite è andato a segno ben 9 volte. Ricordiamo la formula con cui Arkadiusz Milik è al Marsiglia, è in prestito biennale quindi fino al 2022 con obbligo di riscatto per l'Olympic Marsiglia però diciamo che la strada è molto difficile, la trattativa è difficilissima ma in Marsiglia qualora decidessi di riscattarlo anticipatamente dal Napoli potrebbe rivenderlo a un altro club. Quindi il Milan potrebbe decidere di puntare su Arkadiusz Milik, questa è la notizia però ribadiamo che in questo momento la preferenza, l'obiettivo principale rimane appunto l'attaccante francese neocampione d'Europa. Parliamo un attimo di Arkadiusz Milik, che attaccante è? È un attaccante tecnico, un attaccante che sa dialogare bene con i compagni è un attaccante che è un finalizzatore, è un giocatore che ti permette di fare un gioco ti permette di coordinare una manovra offensiva importante perché è un giocatore che grazie al suo dribbling, grazie alla sua capacità di tiro grazie alla sua tecnica di base riesce in qualche modo a creare spazi a creare giocate anche per i trequartisti dietro e potrebbe essere il profilo giusto per il modulo che utilizza Stefano Pioli per il 4-2-3-1 perché il Milan abbiamo capito e stiamo vedendo sempre di più in base agli obiettivi, ai profili che vengono costitati dal Milan che cerca una punta di manovra, non un finalizzatore perché sennò a questo punto avrebbe in qualche modo cercato di prendere Belotti vista anche la situazione contrattuale o avrebbe cercato altri profili così invece sta cercando dei bomber ma che sappiano anche giocare con i compagni dei bomber ma che sappiano essere non solo la boa di riferimento ma che sappiano venire incontro, che sappiano venirsi a prendere la palla un po' come Ibrahimovic, un attaccante completo, un attaccante di tutti, un attaccante moderno e Arkadiusz Milik sicuramente fa il caso del Milan, fa il caso della richiesta tecnica della richiesta tattica di Stefano Pioli e del suo staff ci sono anche altri nomi sull'attaccione del Milan ma sono davvero in questo momento irraggiungibili sono utopistici, parliamo di Vlaovic, talento della Fiorentina che ha una valutazione intorno ai 60 milioni di euro ritenuti troppi per il Milan ma non per le altre big del calcio europeo si parla molto anche di Scamacca ma il Milan ritiene eccessiva l'offerta ma vi dico state molto attenti perché potrebbe esserci una trattativa col Sassuolo però in questo momento il Milan, ribadiamo, ha come priorità Oliver Giroud e attenzione anche al nome di Giacomo Raspadori che noi avevamo in qualche modo accusato a Milan circa qualche giorno fa che più che avevamo, più che avevamo in qualche modo non si parlava di una trattativa ma si parlava di un nostro consiglio di Giacomo Raspadori perché è un giocatore e la conferma agli europei anche un ottimo segnale di Mancini è un giocatore davvero importante che va tenuto in qualche modo d'occhio soprattutto in virtù del fatto che è un giovane, che è un giovane italiano e quindi è importante anche creare un gruppo di giovani talenti italiani per in qualche modo contribuire attivamente al rinforzamento della nostra nazionale quindi giocando alla Champions League ma fargli fare esperienza internazionale con la maglia del Milan, con la maglia della società italiana è sicuramente un valore aggiunto per un calciatore del valore tecnico come Giacomo Raspadori quindi il nome nuovo è Arkadiusz Milik, trattativa difficile, prestito biennale in questo momento è impresso biennale a Marsiglia, Marsiglia che è deciso visto l'ottimo rendimento, 9 gol in 13 partite a riscattarlo vedremo se si riuscirà a inserire il nostro Milan e come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettermi piace di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera